Musica Chi ha tempo non aspetti tempo. Non rimandiamo al domani ciò che oggi possiamo fare. Del bene di poi sono riboccanti le fosse e poi chi dice a noi che domani vivremo. Ascoltiamo la voce della nostra coscienza, la voce del real profeta. Oggi se udirete la voce del Signore non vogliate otturare il vostro orecchio. Sorgiamo e tesoreggiamo perché solo l'istante che fugge è il nostro dominio. Non frapponiamo tempo fra istante ed istante perché questo non è il nostro possesso. Siamo giunti a una nuova giornata di gioia e di felicità con questo pensiero di Padre Pio che è estremamente importante perché siamo ancora in periodo natalizio appunto il 3 gennaio e Padre Pio con un linguaggio che merita di essere compreso e anche ritradotto, ritradotto in linguaggio contemporaneo, esibisce delle verità che godono dal mio punto di vista di una inaudita attualità. Partiamo da quello che abbiamo sentito. Padre Pio afferma in questo pensiero che noi possiamo tesoreggiare il bene. Che cosa intendeva Padre Pio con questa affermazione? Intendeva, dividendola in due parti, semplicemente il fatto che noi possiamo compiere del bene nel presente. Ora in greco, mi sia concessa questa citazione perché sicuramente tra gli ascoltatori ci saranno anche degli addetti ai lavori esperti in Sacra Scrittura e in Teologia, in greco presente si dice parousia, mentre per noi occidentali parousia è piuttosto riferito all'ultima venuta del Signore Gesù. Bene, per Padre Pio è nella parousia, cioè nel presente, che noi possiamo tesoreggiare il bene. Vuol dire dare da bere un bicchier d'acqua a uno che ha sete, dare una monetina a chi non riesce a arrivare a fine mese, dare un sorriso suadente, confidente, a chi invece è triste, perché qui è incapsulata la dottrina dei meriti, che tradotta significa questo, Dio tiene conto di tutto il bene che noi compiamo nel tempo e per così dire lo capitalizza, cioè non ci sarà nessuna scheggia di bene che noi compiamo nel tempo che non venga incorporata da Dio nel per sempre della Trinità. Se ci sono dei bambini che mi stanno ascoltando è come se Dio ogni volta che noi compissimo del bene con una penna d'oro nel registro bianco scrivesse le buone opere che noi abbiamo compiuto. Peraltro questa è la dottrina cattolica del merito, ciò che noi compiamo nel presente ha un rimbalzo nell'eternità, ma appunto se anche gli altri si dimenticano del bene che noi abbiamo compiuto, Dio non si dimenticherà mai. Ma poi c'è un altro passaggio che ci dà tanta speranza in questo pensiero del 3 gennaio di Padre Pio. Noi abbiamo davanti il futuro, non sappiamo quanti anni il Signore ci chiederà o ci darà il dono di poter vivere. Sappiamo però una cosa, che possiamo spenderci nel presente senza interruzione, donandoci fino in fondo anche quando siamo stanchi, se è per annunciare il regno di Dio e la buona notizia del Vangelo. Ecco perché Padre Pio insiste su questa parusia, anche perché, pensiamoci bene, dov'è che tu puoi incontrare Dio se non adesso e qui, nella tua parrocchia, nella tua famiglia, qui per esempio a San Giovanni Rotondo da dove stiamo trasmettendo, nel presepe, visto che siamo ancora nel periodo natalizio, e soprattutto in questo momento tu non potrai mai rimandare a domani quello che già ieri hai rimandato ad oggi. Scrive in un altro meraviglioso passo dell'epistolario al volume terzo Padre Pio, per indicare che chi ha tempo per fare il bene lo deve fare con l'energia che gli è stata data dallo Spirito Santo, con l'immagine di Gesù che gli è stata impressa nel battesimo al momento appunto in cui è stato inserito nell'acqua santa, ma soprattutto con quella ispirazione che di momento in momento riceve per trasmettere la luce del Vangelo agli altri che si aspettano di riceverla. Grazie per la visione!